E' stata individuata dal laboratorio di virologia dell'ospedale di Torrette la nuova variante del coronavirus, dopo quella inglese, sudafricane e brasiliane isolate nei mesi scorsi e comparsa quella new yorkese. E gli esperti hanno riscontrato ieri proprio nella provincia di Pesaro Urbino ben due casi, ma non collegati tra loro. Inoltre, da come ci hanno riferito questa mattina al termine di una riunione, si tratterebbe del primo caso in Italia. Identificata con la sigla B1-526, la variante New York, finora non descritta nel nostro paese, è stata scoperta per la prima volta in alcuni campioni raccolti nella Grande Mela nel mese di novembre. Poi, nei giorni scorsi, è arrivata anche in Gran Bretagna. Sarebbe stata individuata grazie ai test a cui sono state sottoposte tre persone arrivate dagli Stati Uniti. Probabilmente, nelle prossime ore, i virologi del Servizio Sanitario Regionale forniranno maggiori dettagli sulla nuova forma del Covid-19, ma al momento non ci sono evidenze scientifiche sull'eventuale capacità di questa variante di indebolire l'efficacia dei vaccini, aiutando il virus a schivare la reazione del sistema immunitario. Oggi, il direttore del laboratorio di virologia, Stefano Menzo, ha spiegato che la variante è stata identificata tramite sequenziamento nucleotidico della proteina Spike e confrontata con i database internazionali. Ed ora la sorveglianza epidemiologica molecolare è effettuata campione sui tamponi positivi provenienti da tutte le marche.